Sì, lo so, ho degli impegni da rispettare, ma ti riesce davvero difficile quando hai un fottuto ipopotamo da poter cavalcare. È tipo la cosa più divertente del mondo. E poi è dannatamente gigante! Bentornati ragazzi, bentornati nella Pixelmon. Vi starete chiedendo dove sono, ma ovviamente sono qui. Dietro l'enorme muso del mio Ippodon. I più attenti di voi avranno notato che non è lo stesso Ippodon dell'altra volta. Vi faccio vedere subito. È, diciamo, un pelo più grande. Guardate il suo fottuto muso quanto è grande rispetto a me. È gigantesco. Adesso vi spiego. Tra una puntata e l'altra mi sono divertito a cercare altri Ippodon e altri Geeble. Sì, vabbè, ma non mi mangiare gentilmente. Come vi avevo detto, volevo cercare quello perfetto per me. Ho anche registrato delle scene. Stavo nel mentre chattando con Tiara. E poi, siccome sono stupido, stavo ascoltando della musica. E si sente per tutta la traccia la musica di sottofondo. Quindi vi faccio solamente vedere. Ho trovato questo enorme Ippodon, che non è enorme, però è gigante. Ma è più grande di quello che avevo in precedenza. E soprattutto mi è spawnato, dopo Geeble e Gabbyte, addirittura un Garchomp. Che ho prontamente catturato. E ora, ragazzi, sono riuscito nella mia impresa. Abbiamo Ippodon e abbiamo Garchomp. Senza neanche doverlo allenare direttamente. Tra l'altro, Garchomp lo puoi cavalcare e correre in giro. È un po' inquietante lui. Non è proprio bellissimo. Cioè, sembra un dinosauro. Questi due bestioni sono molto grandi. Vi voglio far vedere che... Uno, vale a dire, Garchomp è enorme. L'altro, vale a dire, Ippodon è gigante. Non mi ricordo mai cos'è di più tra enorme e gigante. Perché la cosa più grossa è giga enorme, ma lo tieni solo tramite le uova. Quindi mai in natura. Quindi non mi ricordo, penso sia di più enorme. Però va bene, sono entrambi giganteschi come li volevo io. E sono super contento di aver trovato direttamente Garchomp, così. Devo stare lì ad allenarlo. Poi anche di livello 58 sono fortissimi sti Pokémon. Ora, ragazzi, noi dovremmo costruire un mezzo volante per raggiungere la città dei samurai. Non me lo sono dimenticato. Il problema è che, ricordate quando vi parlavo del fatto che la nuova mod che abbiamo messo verrà super supportata e sviluppata? Avevo ragione, ero sincero. Il problema è che non mi aspettavo neanch'io tutta questa velocità. È già uscita un'altra versione. E sono stati aggiunti ancora nuovi Pokémon. E addirittura i primi Pokémon di settima generazione hanno già iniziato con la settima generazione. Aggiungendo gli starter. Quindi sì, abbiamo delle cose importanti da fare. Ma la città dei samurai può aspettare. Tanto quei cattivoni hanno abbandonato Samuroth. Quindi non è che si meritano che io glielo riporti subito. E per questo motivo ci prenderemo un'altra puntata scialla per cercare altri nuovi Pokémon. Perché sono state aggiunte cose interessanti. E soprattutto vorrei dare, insieme a voi, la caccia a uno dei Pokémon di settima generazione. In particolar modo c'è un Pokémon che mi piacerebbe dedicare a Tier. Un Pokémon Bow Spammer. Una volta che avrò finito di catturare questi nuovi Pokémon, voglio riorganizzare bene la squadra. E soprattutto li vorrei anche allenare. Mi sembra ora di allenarli tutti per bene e di portarli a un livello abbastanza alto. Bene ragazzi, è arrivato il giorno. Stavo giusto aspettando questo perché ci trasferiremo con Waypoint in un bioma che ho trovato. Vale a dire questo bellissimo bioma ghiacciato. Tra i Pokémon inseriti nell'ultimissima versione ce ne sono due di ghiaccio che a me intrigano davvero un sacco. E sto parlando di Beartic e soprattutto dell'ignorantissimo Avalug. Che è un iceberg a quattro zampe. Cioè è una cosa senza senso e quindi è troppo ignorante. Vorrebbero spawnare entrambi di giorno nelle Ice Plains barra Ice Mountain. Quindi li volevo cercare. Ragazzi, vedete questo simpatico orsacchiotto? Lui si chiama Kubchoo ed è la pre-evoluzione di Beartic. In questo caso non lo voglio catturare perché, siccome avevo già fatto un test, so che Beartic può spawnare direttamente nella sua forma evoluta. E vorrei appunto cercare direttamente un Beartic e non sarebbe affatto male. E mentre questo bioma è pieno di queste fotute rocce che dalla distanza sembrano degli Avalug. Intanto prendiamo questo loot. Che cos'è? Oh, pietrostante. Figo, ci sta. Ragazzi, eccone uno. Guardate com'è fiero. Lui non è ignorante. Lui è bello e basta. È un fottuto orso polare con una barba fatta di ghiaccio. Quanto diamine faigo. Non so quanto grande sia. È un Beartic femmina. Sciallo, sciallo con una Velox Ball. Vediamo che cosa ne pensa. Avviciniamoci che siamo tipo distanti un chilometro. Dai, dai fatti catturare subito. Mamma mia, il primo colpo. Che benessere. E là ce n'è un altro subito. Proprio pronti via. Un altro Beartic femmina. E li lanceremo. Quindi una Subball che ci potrebbe stare il colore. Ti piace Beartic? Che ne dici? Mi salta a mente le palle perché mi ha tirato giù Hippodon. E visto che ne abbiamo già catturato uno. Oh, madonna. Quanta roba. Ho preferito finirlo e lasciarlo perdere. Tanto lo sapete. Io salvo alcuni casi. Preferisco sempre che il Pokémon sia maschio. Quindi se trovo un bel Beartic maschio. Sono più contento. Anche se, non lo so. Il mio cuore è più per Avalug. Non so perché. Ed ecco un altro Beartic. Tutto pronto per essere catturato. Proviamo a tirargli un foglie lama. Sembra un bel esemplare. Ti ero l'intenditore di orsi polari di colpo. Ok, ma anche che usi il graffio. Forse è anche un po' troppo poco. Ecco, tra l'altro ti sei fatto uccidere. Giustamente. Samuroth. Prova una lacerazione. Bravo, che non l'hai fatto troppo male. Molto gentile. Bravo, Samuroth continua così. Grande Samuroth. Va benissimo. Ok, fermi tutti. Pokéball. Li lanceremo. Ti serve qualcosa di ignorante qui, ragazzi. Voglio catturarlo con qualcosa di ignorante. Però, secondo me, la Subball ci sta. Non c'entra niente con lui. Però, essendo una Pokéball azzurra, non ci vuole entrare proprio. Ne facciamo solamente un'altra. E altrimenti potremmo inventare una Curable. Vai di Curable. Dai, dai che ci... Madonna, c'era quasi... Quanto è enorme Garciop. Me lo potete spiegare. Tenilo fermo. Non fargli del male. Mi raccomando. E catturalo. Catturiamolo. Lo catturo io. Tutti e nilo solo fermo. Ragazzi, non lo so. Temo di dover tirare un Ultra Ball a questo punto. Tiriamo un Ultra Ball e chiudiamola qui. Se si continua a liberare. È un tipo tosto questo Beartic. Non si vuole far catturare da me. Una Scurable. Visto che è diventata notte ormai. Andiamo sul classico. Ragazzi, ci siamo. Sì, ci siamo, sì. Siamo riusciti a catturare Beartic nel mentre è diventata notte. Nel mentre Avalug non si vede. Ecco, diciamo che non te l'aspetteresti così un Nice Spikes. Cioè, che senso ha sta generazione del mondo, però? Questa è la Ice Spikes più strana che io abbia mai visto, senza dubbio. Niente, per quanto mi dispiaccia, probabilmente Avalug in realtà... O comunque la sua pre-evoluzione Bergmite ancora non spawnano per quanto siano stati inseriti. Ma visto che giorno, passiamo al prossimo obiettivo. Perché, ragazzi, come promesso, voglio trovare il Pokémon Bow Spammer. In teoria questo Pokémon dovrebbe spawnare... Sto parlando ovviamente di Rowlet, se non l'aveste ancora capito. E in particolar modo è la sua ultima evoluzione desiduali. Dovrebbe spawnare nelle Birch Forest di giorno. Mi chiedo se a questo punto spawna già o è stato implementato solo. E guarda caso, quando noi siamo arrivati per la prima volta oltre l'Arcipelago, ero arrivato proprio in questo bio. Una Birch Forest, il che va a nostro vantaggio un sacco. E mi sono appena accorto di una cosa. Perché io non ho la fottuta minimappa? E da quanto tempo non ho la fottuta minimappa? Sì, sai, probabilmente significa che non mi serve, visto che non notavo che non c'era. Però mi sono appena accorto e l'avevo tolta chissà quanti eoni fa. Sarà molto difficile trovare questo Pokémon. A parte che a questo punto non ho neanche la certezza che sia stato implementato. O meglio, che sia stato aggiunto, ne ho la conferma. Ma che spawni già, a questo punto mi viene il dubbio. In teoria dovrebbe, ma anche Avalog doveva. E a meno che non sia super raro, io non l'ho trovato. Quindi mi viene un dubbio. Ragazzi, mi sa che non c'è un granché da fare. Il biome in realtà non è neanche troppo grande. Ma sto già girando da un po' e non vedo segni di questo Pokémon. Già visto passare di tutto tranne quel Pokémon lì. Quindi un po' di dubbio ce l'ho. Per quanto sia uno starter, gli starter in teoria sono sempre molto rari. Quindi ha anche senso magari che non spawna subito. Ragazzi, nuovo giorno. Sto esplorando di nuovo la foresta e ancora niente. Non so davvero che cosa pensare. In teoria è anche normale che non l'abbia ancora trovato. Cioè, uno starter è un Pokémon raro. Non è che lo trovi così, su due piedi. Ma il fatto che non avessi trovato neanche un altro Pokémon che dovrebbe già spawnare mi fa pensare che in realtà non spawnino ancora in natura. Il che mi dispiace, ma ne sono praticamente convinto. Non ne vedo nessuno ormai. Nulla ragazzi. Non so se è davvero effettivamente rarissimo. O se non spawna per altri motivi. Ma direi che è arrivato il momento di tornare alla base. Prendo dunque il mio scalpello e vi faccio vedere al volo che sono stati aggiunti questi Pokémon. Non è chiaro se ancora appunto non spawnino o se sono solamente rari. Non lo so effettivamente. Nel caso basterà avere un po' di pazienza. Comunque, vedete, Desiduai è presente. Ha il modello ancora un pochino buggato. Ma ce lo abbiamo. Primarina. Idem. E Insineroar. Idem. Ora non sto a tenere le statue perché non mi sembra il caso. Vorrei trovarli in natura. Era solo per darvi dimostrazione che effettivamente Pokémon ci sono. E sono stati aggiunti alla mod, se vi dovesse interessare. Portiamo pazienza. E magari saremo in grado di catturare un Desiduai. Prima o poi mi farebbe molto piacere. Perché è un Pokémon bello. Mi piace il concept. E ha un tipo molto figo. Erba spettro. Ci sta un sacco. Per quanto sia uno starter, lo posso catturare perché la regola è cambiata rispetto alla scorsa stagione. Ma non so se lo utilizzerei perché comunque è il nostro starter. Già ce l'abbiamo e ci sono molto, molto affezionato. Probabilmente nella prossima puntata ci mettiamo a fare quello che dobbiamo fare per raggiungere questa città dei samurai. Non me ne sono scordato. Così come non mi sono scordato che nel PC ha un sacco di Pokémon. Ho Vulpix che devo allenare. Devo ottenere Ninetales. L'ho promesso alla ragazza del Poké Center. E adesso abbiamo anche questo Beartic maschio di dimensioni normali. Tutto sommato ci potrebbe anche stare. Purtroppo so che aggiungeranno un sacco di altri Pokémon che vorrò a catturare. Perché mi piacciono un sacco Talium, Flametyrantrum e tanti altri. Ma cercherò di non farmi distrarre più di tanto. Ragazzi detto ciò io direi che per questo video è tutto. Intanto vi avete chiesto di darvi il download della mod. Ma sapete benissimo dopo ciò che è successo alla Pixelmon non si può distribuire il download di una mod che non è approvata. La puoi usare per utilizzo personale ma non la puoi assolutamente distribuire. Quindi non lo posso fare, mi spiace. Tutto ciò ragazzi noi ci salutiamo e nella prossima puntata inizieremo a costruire qualcosa di davvero molto interessante. Grazie a tutti.